La dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Vittorio Alfieri, Franca Gisella Parise, ha disposto la chiusura per il 13 di gennaio dei Plessi Alfieri ed Albani. La decisione è stata assunta per consentire la sanificazione dei locali dovuta a caso Covid-19. L'avviso è stato pubblicato sulla pagina internet dell'Istituto Scolastico. Nella comunicazione inviata ai genitori degli alunni che frequentano l'Istituto, la dirigente scrive che la decisione di svolgere la sanificazione è stata presa in seguito al contatto di due alunni con alcuni parenti, risultati poi positivi. I due ragazzi erano stati prelevati da scuola dal papà dopo che era stata scoperta la positività al Covid-19 del parente. Dal tampone rapido eseguito presso un laboratorio privato, solo uno dei due alunni è risultato positivo. In ogni modo, scrive la dirigente scolastica, bisognerà attendere il tampone molecolare per poter disporre le procedure anti-Covid previste dalla normativa.